Salve a tutti gente, benvenuti, sperando che ci senta il volume, di questa live di Locker of Dead. Quindi via con la sigla e auguro a tutti voi un buon Halloween per questa serie paurosa. Vi consiglio di mettervi le cuffie e quindi iniziamo. Sigla! Grazie a tutti! Giorno 1 Grazie a tutti! Ecco raga da qua iniziano i guai. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Come vedete raga ho 150 gemme, quindi per le scelte sono a posto. Grazie a tutti! Ah, le ultime parole famose. Grazie a tutti! 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 E io non andrei. Fallo, fallo Oh cavolo Stupido microfono Pensi questo è meglio che abbasso il volume Ok così dovrebbe andare bene No assolutamente no Non trovate che la musica sia abbastanza un pochino inquietante dal suono e si sente? Ok Ecco che usa il suo fassino per attirare il professore così non vede nulla Si contaci Ma si chi sospetterebbe mai una ragazza carina? Nessuno? Sono perfettamente d'accordo con lui però Se non c'è non ci sono altre opzioni si deve fare no? Ok Ma sinceramente per quanto riguarda me Forse Eccoci nell'abbandonata Sentite quanto inquietante? Forse Forse perché qualcuno Ha impedito di Che quest'area sia stata demolita? Non lo so Ecco gli armadietti di satana Non lo so Non lo so Eccoci nell'abbandonata Non lo so Eccoci nell'abbandonata Grazie a tutti. Realmente è sfuggito o è apparto dal nulla. Non fa per niente impressione? Ok, per un attimo mi sono spaventato, ho sentito il rumore. Ok, anche il telefono. Scusate un attimo. Ok, tutto strano. Mentre stavo facendo questo episodio, questa serie che è horror, il rumore pusho nel telefono. Oh beh, si sa che a casa mi sono i fantasmi. Ok. 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 Grazie. Grazie. Conunque io, anzi no, dico dopo. Coincidenza? Non credo proprio. Non credo proprio. Non credo proprio. Non credo. Non credo proprio. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ci vediamo al prossimo episodio di Locker of Dead. Ciao.